Sbaglia il passaggio, l'imbucata verso Russo, Ligno per i tiri, recupera la palla Marcel Simon ed è eccellente nella gestione del possesso palla l'ex giocatore della Marcionise. Ancora il tentativo del... Attenzione! Mamma mia! Mamma mia che golla! Mamma mia che golla! Mamma mia che golla! E questo è un gol che rimarrà nella storia con il calcio 5. Mamma mia che cosa ha fatto Marcel Simon! Mamma mia che cosa ha fatto Marcel Simon! La standing ovation! La standing ovation qui dalla Paragliaia e anche noi ovviamente non possiamo fare altro che inchinarci a questa prudezza, a questa rete stratosferica da parte di Marcel Simon. Attenzione! Mamma mia! Mamma mia che golla! Mamma mia che golla! Mamma mia che golla! E questo è un gol che rimarrà nella storia con il calcio 5. Mamma mia che cosa ha fatto Marcel Simon!